Gossipita VIP, se lo sussurra, lo svegliamo. Enzo Ghinazzi, conosciuto come Pupo, attribuisce la sua instabilità sentimentale ai tradimenti della madre, che scoprì a letto con un altro uomo quando aveva solo 12 anni. In un'intervista al Corriere della Sera, il cantante ha raccontato di aver assistito a questo episodio traumatico e di aver scritto una canzone al riguardo, mai pubblicata. Inizialmente, Pupo nutriva risentimento verso la madre, colpevolizzandola per i suoi problemi sentimentali. Tuttavia, con il tempo ha capito e perdonato, considerando che suo padre, postino e giocatore d'azzardo, rendeva la vita familiare difficile. Incapace di mantenere segreti, Pupo raccontò subito al padre del tradimento, causando tensioni ma senza portare alla separazione dei genitori. Questa sua sincerità lo ha portato anche a rivelare verità scomode agli amici. Pupo vive attualmente una vita sentimentale complessa, definendosi un bigamo in senso figurativo. Da un lato c'è la moglie Anna, con cui è sposato da 50 anni, e dall'altro la compagna Patricia, con cui ha una relazione da 35 anni. Entrambe le donne sono consapevoli l'una dell'altra, formando insieme una famiglia allargata. Pur non consigliando questo stile di vita, Pupo riflette su come il loro rapporto sia diventato una sorta di miracolo, superando numerose difficoltà. L'artista, che ammette di aver tradito spesso senza essere scoperto, vede il poliamore come una tendenza crescente, considerandosi un pioniere in questo ambito.